Riviera e Banca Rimini chiude il suo 2023 sul campo dell'Umana Chiusi, ultima in classifica con 4 punti e reduce da 5 KPO consecutivi. RBR di punti in 8 e ha perso le ultime due gare. Sugli spalti 150 tifosi del Barrio. Ottima partenza di Johnson, in un avvio ricco di errori al tiro su ambi fronti, 4-4. Stefanini da 3 e poi dalla lunetta per il più 3 dei locali, prima sul 7-4, poi sul 9-6. Grande pareggia, 9-9. Di Johnson il nuovo vantaggio riminese, 9-11. Tomassini, ottimo impatto partendo dalla panchina, e Tassinari spingono Riviera e Banca sul più 6, 11-17. Margine che resta invariato al decimo, dopo i liberi di Tilgman ed il canestro di Tomassini, 13-19. Il secondo parziale si apre con un 7-0 di RBR, griffato dai soliti Johnson e Tomassini, 13-26. Tilgman e Stefanini riavvicinano i toscani, 18-26. Poi sali in cattedra Numba, che realizza 10 punti. Rimini tocca il più 14, prima sul 21-35, poi sul 22-36, quindi sul 23-37. Cinque punti di Jonas e il canestro sul suono della sirena di Dell'Osto permettono all'Umana di andare all'intervallo lungo, sotto di 9, 30-39. In apertura di terza frazione, Rimini torna avanti di 14, dopo i canestri di Numba e grande, 30-44. Tilgman, con 4 punti di fila, riporta meno 10 suoi, 36-46. Ma Rivira Banca continua a macinare canestri e ritocca, ripetizione, il massimo vantaggio. Più 15 dopo la tripla di Numba, che vale il 38-53. Più 16 dopo il canestro da 3 di Tassinari, 40-56. E più 18 dopo due liberi di Tassinari, 42-60. Il quarto si chiude con la tripla di Stefanini, 45-60 al trentesimo. Nell'ultimo parziale, dopo il meno 13 di Dell'Osto, 47-60, Marks trove il suo primo canestro dal campo, 47-62. Sono ancora Numba e Johnson a fare la voce grossa, 51-66, dopo l'azione da 3 punti del numero 3, che chiude a quota 21. 60-75 dopo l'ennesimo canestro di Johnson, anche per lui 21 punti, più 16 rimbalzi. Dal suo contributo anche Tomassini, altro fattore del match, che scrive 12, 60-78. Gli ultimi canestri sono una tripla di Marks e la replica di Stefanini, top scorer dell'incontro con 25 punti. Finisce 65-81. Per RBR, che sa la quota 10 in classifica, è la prima vittoria esterna del campionato 2023-2024. 2024-2024.